Oggi recensisco il disco del 13 maggio del 2022 dei The Smile intitolato Light for Attracting Attention, album che mi è stato richiesto su Patreon da Bianco82, Jurden e Angelo Zanier. Abbonati a Patreon per richiedermi la tua recensione, iscriviti a questo canale che è totalmente gratuito e poi soprattutto metti un like a questo video. Seguimi anche in live sul canale viola dal lunedì al sabato dalle 14 alle 16. I Radiohead dopo Monshade Pool del 2016 si prendono come al solito dei tempi molto comodi tra una pubblicazione e un'altra. Tra l'altro in questo caso non c'è proprio l'altra pubblicazione e quindi siamo tra color che sono sospesi attendendo eventualmente che possano tornare. E in questo caso è talmente tanta la bellezza di questo disco ed è talmente appagante l'ascolto di questo album che probabilmente ha gettato un po' tutti noi amanti dei Radiohead in una certa angoscia che è quella che possano effettivamente poi non tornare più a pubblicare un disco. Perché dico che questo disco è così appagante? Perché è senza ombra di dubbio il lavoro, diciamo lo spin off dei Radiohead da parte di membri dei Radiohead migliore in assoluto. Non c'è colonna sonora di Johnny Greenwood che tenga, non c'è album solista di Tom York e Tecano, album solista di Phil Selway che possa tenere. Questo è senza dubbio il lavoro meglio riuscito per tutta una serie di motivazioni. Intanto perché questo disco nasce sotto Covid. Quindi con tecniche di registrazione che sono molto complicate. Riuscire a fare un disco durante il Covid se non vivevi insieme al resto della band o se non eri un artista solista. Insomma implicava una serie di difficoltà che loro riescono a superare in maniera brillante. Ma intanto chi sono loro? Chi dei Radiohead è dentro questo progetto? C'è Tom York, c'è Johnny Greenwood e come terzo incomodo c'è Tom Skinner che è il batterista della formazione di neo jazz, modern jazz, alternative jazz britannica Sons of Kemet. Johnny Greenwood e Tom Skinner iniziano già prima di coinvolgere Tom York a lavorare su un po' di materiale. Tant'è che Tom York poi verrà chiamato in un secondo momento e poi da lì in poi, da quel momento in poi, lavoreranno sempre in maniera congiunta con appunto delle tecniche, vi dicevo prima, molto particolari perché ognuno deve registrare le proprie parti in assenza degli altri. Quindi immaginate quanto è difficile su un disco che ha nel groove, e poi di questo parleremo, una delle componenti più importanti vi rendete conto di quanto sia difficile gruvare a distanza senza poter essere nello stesso posto. A coordinare le operazioni, a fornire i software necessari e ogni tipo di, diciamo, espediente tecnologico che possa servire per facilitare questo compito c'è il fedelissimo Nigel Godric che è appunto produttore storico dei Radiohead e probabilmente il più grande, uno dei più grandi produttori e manipolatori del suono viventi. L'altro elemento che contribuisce alla bellezza di questo disco è sicuramente il contesto sociale, nei confronti del quale sia York che Johnny Greenwood, ma ovviamente in maniera particolare Tom York che fornisce i testi anche di questo lavoro. Insomma è sempre motivo di grande ispirazione e tra il trumpismo, ovviamente la situazione con Boris Johnson vissuta in Inghilterra, il Covid stesso, insomma ce n'è parecchio da raccontare. Tant'è che il buon Tom York addirittura poi in alcuni, in un caso, non pago della cronaca internazionale, si va a beccare anche, va a pungolare anche la nostra cronaca, quella proprio italiana, citando il Bunga Bunga, citando Berlusconi, dedicando praticamente una canzone al berlusconismo e non tanto quello, come dire, imprenditoriale ma quello anche editoriale, visto che si parlerà proprio dell'editto bulgaro che poi andò a colpire per esempio Enzo Biagi e Luttazzi. Quindi il disco è molto denso e anche pieno di... pieno no, però ha la sua bella quota per esempio di parolacce, insomma di linguaggio piuttosto esplicito da parte di Tom York. Un Tom York che a tratti è arrabbiato e pessimista in altri tratti e invece è ottimista e forse spinge più noi ascoltatori o il popolo in generale alla riflessione. Il popolo soprattutto delle piazze, quello che scende in piazza secondo lui per le motivazioni forse meno idonee, meno adatte, meno giuste. Soprattutto un popolo, un mondo diviso culturalmente che non accetta la cultura dell'altro e quindi capace appunto anche di scendere in piazza per manifestare la mancata accettazione e la propria diversità appunto nei confronti dell'altro. Da un punto di vista musicale il disco riserva tante sorprese perché è un album diviso tra momenti tranquilli, morbidi di ballata o comunque sospesi perché non sono sempre ballate tradizionali. Ci sono un paio di momenti tradizionali all'interno di questo disco, per il resto è un album che sperimenta molto con i tempi dispari, con degli arrangiamenti particolari, ma mantiene una sua essenzialità. È un disco sempre apparentemente scarno, cioè si basa sulle fondamenta dell'arrangiamento, secondo questi tre, in una maniera perfetta, ovvero un groove normalmente di batteria e basso dove il lavoro di Tom Skinner si differenzia per esempio tantissimo rispetto al lavoro dei Radiohead con i quali questo disco ha delle somiglianze perché è un album che per certi versi risuona di Emun Shade Pool così come risuona per esempio anche di In Rainbows per certi versi. Ma Tom Skinner non essendo Phil Selway ed avendo una formazione jazz lavora in una maniera completamente diversa e mi permetto di dire che è probabilmente ancora più affascinante rispetto a quello che Radiohead riescono a fare con Phil Selway. Non che Phil Selway sia un batterista limitato, ma è semplicemente la differenza di come si mescola lo stile batteristico di Tom Skinner rispetto a quello di Phil Selway che su queste composizioni dispari, su queste composizioni ricercate, che lavorano su arpeggi soprattutto, è un album di pochi pad e di arpeggi, poche orchestrazioni anche se quando ci sono pad e orchestrazioni si fanno sentire tantissimo e tanti arpeggi, ovviamente arpeggi nello stile di chi? Nello stile di Johnny Greenwood che non è sicuramente uno che si accontenta di un arpeggio tradizionale. E su questo ci sono le varietà vocali di Tom York, mi sento di dire le varietà perché ci sono chiaramente i momenti di falsetto, ma c'è tanto Tom York tenore, c'è tanto Tom York introspettivo all'interno di questo lavoro qui e anche nel Tom York che si diverte, si direggia col falsetto, si diletta col falsetto, c'è almeno una varietà di due falsetti che lo rende particolarmente interessanti. Il lavoro è perfetto, è un disco secondo me perfetto, molto difficile riuscire a trovare dei momenti deboli all'interno di questo album. Forse ce n'è soltanto uno che probabilmente rappresenta la canzone un po' più, forse meno riuscita, forse meno riuscita, mi permetto di dire ovvero Having a White Flag, forse il pezzo più debole del disco, ma neanche troppo averne di pezzi deboli così. E quindi è un disco che già sulla carta, mettendo tutti questi elementi, sprigiona forze, ne sprigiona tantissima. Ripeto, calcolate le condizioni in cui questo disco viene realizzato. E l'album non tradisce mai dalla prima canzone, da The Same, che è un pezzo di synth e voce. Incredibilmente essenziale, si torna a questo elemento dell'essenzialità. Il disco non è un disco facile, ma è un disco essenziale, proprio per il, diciamo, la trama di strati, la stratificazione che viene fatta di elementi musicali su questo disco. Ogni cosa che viene registrata, che viene incisa, viene soppesata. Non c'è nulla che sia, come dire, di troppo. E questo perché? Perché è un disco totalmente pensato? Non credo. Credo che questo sia un disco fatto di tante improvvisazioni, dove su ogni improvvisazione, che fosse di batteria e basso, oppure che fosse nata da un riff di chitarra, ogni improvvisazione viene setacciata, filtrata attraverso l'intelligenza armonica, musicale, melodica di questi tre signori, soprattutto di Johnny Greenwood e Tommy York, che sulle melodie ovviamente lavorano meglio di Tom Skinner. E quindi qualsiasi cosa tu senti all'interno di questo disco trasuda non solo esperienza, ma enorme sensibilità. È un disco di una sensibilità straordinaria. Tant'è che, entrandoci dentro, non essendo un album da primo ascolto, ma essendo un disco che necessita probabilmente di due, tre ascolti, per iniziare a carburare insieme all'ascoltatore, beh, insomma, a quel punto si spalancano dei mondi e ogni volta si riescono a cogliere sfumature che magari al primo ascolto non era stato possibile beccare. Andiamo proprio ad affrontare le tracce. Il disco si apre con The Same, appunto. Questa canzone è senza batteria, con il synth estremamente sospesa, molto bella. In che mondo ci porta? Beh, ci porta in un mondo fondamentalmente senza grandi connotazioni, di epoca. Potrebbe essere un pezzo degli anni 80, ma sì volendo, però forse no. Potrebbe essere un pezzo dei 90, boh sì, forse no. Quindi è un brano fondamentalmente universale. The Same. The Opposite inizia invece a farci capire esattamente quello che succede. Perché? Perché viene presentato, Tom Skinner viene presentata l'idea di groove di questo disco. Io ve lo sottolino ancora una volta. È un album che gruva da matti. È un disco che gruva da matti. È un disco straordinario sotto questo punto di vista. Infatti il groove di questa canzone è super. La batteria e il lavoro che fa Skinner è sempre diverso. Tu senti un moto perpetuo che con il basso che si palleggiano in base alla canzone. Una volta lo suona Johnny Greenwood, una volta lo suona Tom York. Le chitarre una volta le suona Greenwood e una volta le suona Tom York. I sintetizzatori una volta li suona Greenwood e una volta li suona Tom York. Ci si scambia tutto. Ruoli e tutto. Sono dei polistrumentisti. Fanno quello che vogliono. Ovviamente Tom Skinner è quello che, restando alla batteria, dà un contributo diverso. Ma il contributo che dà, lo ripeto e lo segnalo per chi non conoscesse, tra l'altro, il suo lavoro nei Sons of Kemet. Sono una band fenomenale. Insomma, è un lavoro di grande ricchezza nell'arrangiamento. You would never work in television again. Questo è il pezzo su Berlusconi, sull'editto bulgaro. Non lavorerai mai più in televisione. È qui che viene citato proprio il Bunga Bunga. Sono tante le fascinazioni e i punti di contatto tra Tom York e l'Italia e vengono appunto messi in campo in questo disco, in uno dei vari momenti politici di questo disco, dove i riferimenti ai politici, a certi politici, sono piuttosto chiari. Dire Bunga Bunga ovviamente implicitamente coinvolge Silvio Berlusconi, così come poi vedremo in Hairdryer che chi ha bisogno di un phon per capelli fondamentalmente o Boris Johnson o Donald Trump e quindi anche lì diventa molto semplice capire di chi si parla. Mi soffermo un attimo su You'll Never Work in Television Again perché è un brano di alternative to cure. È un pezzo che potrebbe stare dentro Vitalogy dei Pearl Jam perché il lavoro che viene fatto alle chitarre e il tipo di suono che sa di alternative rock, sa di garage in un certo senso, fino chiaramente alla connotazione che poi ne danno loro perché lo inseriscono in un contesto. Queste chitarre sono messe in un contesto che con il garage ovviamente non ha nulla a che fare. Con l'alternative rock sì, però è un pezzo fondamentalmente di attacco questo. È un pezzo diretto, aggressivo, con un mondo post-punk dentro. È un pezzo veramente molto bello. Vedremo che nelle altre canzoni in cui invece andranno ad accelerare invece staranno dentro il mondo tedesco del crowd rock, quindi con ritmi serrati. Questo è il pezzo più slabbrato di tutti quelli che avremo in sequenza nella lista di canzoni di questo disco. Panavision. Panavision è forse il primo momento eccellente del disco. Questo è il primo grande, grande, grande pezzo. è una ballad al pianoforte con un groove molto morbido, arpeggiato. Tornano gli arpeggi, gli arpeggi sono dominanti in questo disco. E dove nella parte conclusiva del disco ci sono degli accenti del pianoforte, degli accenti del synth che emulano il lavoro dei fiati. Sembra avere una sezione fiati, mentre tutto questo invece viene fatto da pianoforte, proprio l'accentatura della cadenza di questo pezzo che dà la suggestione dei fiati. Un pezzo meraviglioso. The Smoke, altro pezzo epico. Groove di basso. In questo caso un riff vero e proprio di basso, quindi suonato nella parte più alta, alle ottave. Bellissimo. Un pezzo, anche in questo caso, straordinario con l'invito a nozze. Praticamente gli serve il groove a Tom Skinner su un piatto d'argento. Qui Tom York, che suona il basso lui. Il falsetto va a connotare una delle linee di voce più belle dell'intero disco. Veramente meravigliose. Il lavoro che ne fa Tom York di questo brano, della melodia del racconto è veramente splendido. Altro pezzo eccezionale, Speech Bubbles, che secondo me di questa prima parte del disco è proprio il pezzo trionfale. In questo caso, anche qui, gli elementi sono pochi. C'è un organo, c'è questo pattern di batteria elettronica. Qui Skinner programma soltanto. Non suona nemmeno, a meno che non abbia suonato dei pad. Questo non lo so. E c'è questo arpeggio di chitarra che è meraviglioso, stupendo. E il falsetto. E qui andiamo, in un certo senso, ad Il Rainbows, il finale in crescendo. Altra specialità della casa che qui, in questa canzone, veramente va a dare lustro all'intero disco. Thin Thing, eccoci qua. Qui siamo nel momento, diciamo, il primo momento crauto del disco, un pezzo più tirato. C'è un grandissimo groove. E questi riferimenti alla politica. C'è un riff di chitarra bellissimo, tagliente. Ci sono degli swoosh, diciamo, delle ondate, chiamiamole così, di sintetizzatore che creano incertezza, che creano un movimento all'interno del pezzo. Appaiono e lì dove probabilmente nessuno ne sentirebbe la necessità, invece lavorano a percezione. Anche in questo caso cercando di sbilanciarti, nel tuo equilibrio di ascolto. E in questo pezzo che disorienta, diciamo, c'è questa chitarra. La chitarra è l'oggetto primario, è il grande protagonista di questa canzone. Altra ballata, Open the Float Gates. Pianoforte. Ci sono degli appoggi di pianoforte, quindi non si lavora su arpeggi del piano, ma gli arpeggi li porta il sintetizzatore, che fa un lavoro eccezionale, muove tutto. È un synth, credo, anni Ottanta. Questo è il pezzo, forse, che è uno dei riferimenti più connotabili, più riconducibili agli anni Ottanta. E la sensazione è che sia un pezzo fluttuante. Tu ascolti questa canzone e fluttu, inizi a galleggiare, no? Sei un po' una sorta di nuvola, no? Immagini tutti gli ascoltatori come nuvole che vengono portate da questo vento, che è una danza di arpeggi. Ci sono questi arpeggi che spostano e muovono e soffiano. Ed è veramente un pezzo dove la bravura di Johnny Greenwood esalta l'intero lavoro. Free in the knowledge. Ecco, altra nota a parte. Questo è il pezzo più tradizionale del disco, almeno in questa prima parte. E vi dico che in questa ballata, che, diciamo, nasce chitarra e voce, anche se poi viene portata al pianoforte, questa canzone, per me, personalmente, è la canzone più bella del 2022. Secondo me è la canzone che, per distacco, non solo è la più bella, ovviamente di questo disco ne va per, come dire, implicitamente, ma è anche la canzone secondo me più bella di tutto l'anno. Una canzone straordinaria, un pezzo di bravura di Tommy Ork, un pezzo anche, diciamo, su cui si lavorava da tanto tempo che viene riproposto, ma è talmente bello che diventa fenomenale all'interno di questo contesto. Hairdryer. C'è questi hi-hats, questo charleston della batteria in sedicesimi che porta tutto il tempo, e queste scale, c'è questa suggestione di scale della chitarra, che durante la strofa salgono, sono tutte a salire, scale a salire, e poi nel ritornello scendono, praticamente ti riportano al punto di partenza. Sembrano quasi scale mobili, ma in realtà hai l'effetto di chi le cammina. Ma in realtà l'effetto è quello di chi le sale al contrario, anche per le dissonanze, anche per quello che viene per il tipo di note, per la selezione anche armonica del contesto, delle note che vengono suonate dalla chitarra, e poi vengono scese di corsa al contrario, nonostante sia più compassato ritmicamente il movimento di chitarra delle parti di ritornello. E poi su questo ci sono delle doppie voci eccezionali. Qui gioca proprio con tutti i suoi registri di Tom York. Gioca da una parte con il suo tenore e dall'altro con il suo falsetto. Le mescola insieme, il risultato è straordinario, e c'è questo pad di sintetizzatore che va a simulare l'orchestra. L'orchestra entra in gioco in questo disco, ma entra in gioco vera soltanto in un momento successivo. Fino a questo momento è tutto suggestione. Suggestione di fiati, poi avremo i fiati veri, suggestione di orchestra, poi avremo l'orchestra vera. Hairdryer, ovviamente come vi dicevo prima, brano su Boris Johnson e o Donald Trump. Quindi persone, politiche, figure politiche che hanno indubbiamente bisogno di un phon. Wave in a White Flag, ve l'ho detto prima, è forse il pezzo un po' più debole del disco, anche se parzialmente, perché comunque è un pezzo con un synth di arpeggiatore con un suono meraviglioso, molto morbido, quindi con poco attacco, veramente morbido ma caldo, pieno, e gioca fondamentalmente su un accordo con un trucchetto, diciamo, difficilissimo sul quale creare melodia, che è lo stesso accordo una volta in maggiore e una volta in minore, o una volta in minore e una volta in maggiore. E questo ovviamente melodicamente è uno dei contesti più difficili dove andare a buttare giù una linea di voce, ma Tom York ci riesce egregiamente a averne di pezzi deboli così. We don't know what tomorrow brings, questa è la penultima canzone, altro pezzo tirato, forse il pezzo tirato più bello del disco, a mio giudizio, pezzo più krauto in assoluto, veramente krautrock puro, serratissimi, sono tutti serrati, batteria e basso sono serratissimi, come nella tradizione dei noi, cioè è praticamente un paradigma di krautrock. Ed è un pezzo che però viene costruito così come Free in the Knowledge su una melodia molto tradizionale, la seconda melodia più tradizionale del disco, il risultato è stupefacente. E poi ultimo pezzo, altra eredità del mondo radio è davvero Skirting on the Surface, qui viene riproposta con la perdita di una I, quindi è Skirting, se non è Skirting. Altro pezzo meraviglioso per chiudere il disco è questo arpeggio di chitarra col falsetto e una classe, una scuola, diciamo una lezione, ecco, chiamiamola così, una lezione di batteria di Tom Skinner sulle Ghost Notes, quindi per chi non sapesse cosa sono le Ghost Notes, sono i piccoli rimbalzi della bacchetta sul rullante, le note fantasma, quindi non i colpi accentati sui quarti oppure ogni misura, ma sono delle note di rimbalzo del rullante che arricchiscono, fanno groove e soprattutto danno corpo a quello che viene suonato. Tom Skinner su questo è indubbiamente un numero uno, questo è un disco di numeri uno, sono tutti fenomenali, questo è un album eccezionale, veramente eccezionale, il disco secondo me più bello del 2022, l'album da avere, se doveste sceglierne uno, ecco il mio consiglio, questo è il disco probabilmente da avere, premiatelo già in vinile se siete amanti del vinile, è un disco che suona benissimo, ogni parte che viene regalata al pubblico non è mai un qualcosa di non ponderato, c'è un rispetto per la musica, per la propria artisticità e per il pubblico dentro questo disco che è a livello elevatissimo, non c'è nulla che sia commercialmente una furbata, nonostante si chiami una luce per attirare l'attenzione, qui per attirare l'attenzione c'è soltanto la qualità del disco stesso, album secondo me da 8.9 sarebbe un 9 ma gli do quel minimo in più proprio per quella canzone che mi piace un po' di meno ma comunque fate voi, è un altro disco fluttuante tra l'8.9 e il 9, c'è poca differenza. disco che vi consiglio assolutamente, così come vi consiglio di abbonarvi a Patreon intanto perché recuperate tutto l'archivio delle mie live più le playlist speciali caricate sia su Spotify che su Tidal che su Apple Music e sono tante, più tutte le puntate speciali che io ho realizzato, non soltanto le live classiche che faccio sul canale Viola dal lunedì al sabato dalle 14 alle 16. Dopodiché se non volete abbonarvi in maniera totalmente gratuita lasciate un like a questo video, iscrivetevi a questo canale, seguitemi di là, vi ho già detto quando e aspetto la prossima recensione. Grazie.